Ciao ragazzi, ciao a tutti! Voi sapete che quando c'è da cazzare i GameStop sono in prima linea ma anche quando c'è da spendere delle parole di positività verso la nostra catena dell'usato preferita Ho fatto un ordine che voi adesso non vedete cosa c'è dentro Ragazzi, avete capito che dovrebbe essere una console perché ovviamente è una console ricondizionata e andiamo a fare l'unboxing La scatola era chiusa bene però l'ho già aperta io per verificare e per testare la console in questione Andiamo a fare l'unboxing e vi faccio vedere perché spendere delle parole di positività verso GameStop perché per una volta mi ha stupito questa volta mi ha stupito e mi ha sbalordito Andiamo a vedere il package e abbiamo una Nintendo 3DS anzi, New Nintendo 3DS XL Dentro abbiamo anche il nostro caricatore che non erano obbligati a fornircelo ma ce l'hanno fornito In realtà non c'era il caricatore insieme alla console ma loro ce l'hanno dato ugualmente La console veniva venduta senza caricatore Però non è questo ciò che vi voglio far vedere ma è quella che è la Nintendo 3DS XL New Nintendo 3DS XL Intanto sto a vedere che se do una pulita a sto mobile forse siamo tutti più contenti ma non è neanche questo il perché del video ma questa Ragazzi vi faccio uno zoom perché lo merita Ok? Ragazzi vi faccio un zoom perché lo sta meritando Boh, togliendo che doveva essere black e medievata white Probabilmente ancora non gli hanno spiegato la differenza tra black e white Ma non fa niente Ragazzi È immacolata Io non so se riesce a metta a fuoco Ma levate le carcole sopra con le sue mie Ragazzi è immacolata Ragazzi è immacolata Cioè se la vedete un po' Vedete qualche editata o qualche segno è perché l'ho usata io ma cioè Ragazzi Sembra nuova Nuova uscita appena dalla scatola Ragazzi Mi sono stupito pure io È perfetta Ho detto vabbè sarà spaccato questo No neanche Pure questo tanto se a scappiarla è meglio regà è nuova cioè regà fra questo e il nuovo uscito dalla scatola non c'è differenza mi sono stupito anche io allora ho detto bah se deve essere l'inculata sarà ricato qualche schermo ho detto sarà ricato qualche schermo no regà gli schermi sono perfetti intanto vedete il desktop del computer regà gli schermi sono perfetti i tasti guardate se vedete un po' unto è perché l'ho usato io cioè regà è perfetto regà stavo a cercare pure io dico no cioè ci deve stare in perfezione qualcosa che non va bene ci deve stare cioè che mi stoppe non mi posto qui così cioè non c'ha cleve non c'ha segni regà non c'ha oh sembra nuova pure qui perfetta è perfetta io non ci volevo credere tant'è che quando l'ho acceso ho detto ce sarà l'inculata che l'inculata ce ne sta per forza cioè non mi potete dire che mi stoppe mi manda le cose buone l'inculata ce deve essere intanto legiamo un po' lo zoom l'inculata ce ne sta no è perfetta regà l'sd è perfetto gli schermi sono perfetti l'audio è perfetto c'è ho detto non ci voglio credere ho detto no cazzo davvero che mi stoppe mi manda una cosa immacolata cioè regà immacolata questa sembra aperta dalla scatola nuova e messa in vendita poi fra sconti e cazzi vari l'ho pagata a 60 euro e vi posso assicurare che è stato un best buy ragazzi GameStop mi ha stupito con questa GameStop si è rifatta di tutte le volte che mi ha mandato le scatole lotte i giochi per nuovi invece erano usati aperti cioè con questa GameStop si è fatta perdonare tutte le cappellate che ha fatto fino ad oggi per il resto vi posso dire ho già effettuato l'installazione di un custom firmware e volevo portare un po' di gameplay per quanto riguarda non so Zelda io adesso mi sto a chiudere con questo qui con Zelda Link a Link Between Worlds stavo a cercare legge ma dietro la telecamera è un po' difficile legge mi sto a chiudere con questo e voglio portare questo vi vorrei portare anche Locadine of Time si Locadine of Time 3D sempre di Zelda e sempre di Zelda voglio giocarvi il Majora's Mask 3D adesso voglio portare intanto questo qua se ci riesco vi porterò questo su qualche gameplay o qualche live e poi provvederemo a portare gli altri detto questo ragazzi io vi saluto vi dico che ripeto è immacolata non sembra neanche usata cioè sembrava nuova ve lo faccio rivedere sembra nuova non c'ha proprio alcun segno d'utilizzo mi dispiace solo per il tizio che gli avrà portata che gli avrà notato 10 euro per una console praticamente nuova intanto non ho capito perché è partita la fotocamera probabilmente ho premuto io dicevo gli avranno dato 10 euro a quel polo disgraziato e io ho fatto comunque un best buy un acquisto best buy detto questo vi saluto ciao ragazzi e buon gioco grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.